Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di mercoledì che vedrà ancora un'area di alta pressione sul Mediterraneo e sull'Italia, ma correnti più fredde nord-atlantiche cominciano ad avvicinarsi al nostro paese e sono precedute da correnti umide in arrivo sull'alto terreno. Quindi qualcosa inizia a cambiare, lo capiamo anche dalla nuvolosità. Inizio di giornata l'insegna del cielo sereno, poco nuvoloso dappertutto, a parte un po' di nebbie e foschie in Valpadana. Però si avvicinano degli annuvolamenti, a fine giornata già nuvole tra Levante Ligua e l'Alta Toscana e come vedremo tra poco anche le prime gocce di pioggia. Controlliamo infatti le precipitazioni che a inizio giornata stanno quasi del tutto assenti, anzi del tutto assenti nel nostro paese, ma alla fine del giorno ecco a spuntare queste macchioline su Levante Ligua e Toscana e poi vi anticipo giovedì giornata molto variabile soprattutto nell'Italia centrale. Ma per quanto riguarda questo mercoledì dicevamo ancora ampie zone di sereno, sulla fine giornata peggiora su Levante Ligua e l'Alta Toscana, attenzione a nebbie e foschie di nota primo mattino in Valpadana, specie sulla bassa pianura padana e temperature relativamente miti. Potremo anche avvicinarsi ai 15 gradi al centro-sud. Per tutti i dettagli sulle vostre località scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.